musica 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 ah ancora ciao a tutti ragazzi e ragazze io sono cicomero il diablo e ben ritornati in questo video oggi rigiocheremo a geometry dash ho notato in alcuni video che in realtà si dice geometry dash la pronuncia in inglese poi non so se anche da noi si dice geometry dash vabbè comunque ma perchè c'è una navicella modificata andiamo avanti oggi in questo video dovrò finire tutti i livelli ma non vedo l'ora guarda ma al completo li devo finire non vedo l'ora tra l'altro sto facendo le madonne vabbè questa parte era facile io voglio finire tutti i livelli perchè io siccome ci gioco ora tantissime volte anche quando non faccio i video quindi mi sa che li finirò stavo scherzando ho detto una cazzata allora allora non dovrebbe essere difficile andiamo avanti vai ok questa parte l'ho superata c'è difficile c'è difficile sta cosa volevo prendere la moneta madonna stavo morendo come un pirla raga 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 sto vincendo oddio raga raga non ci credo porca troia no 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 dai no 78 non è un po troppo poco l'altra volta abbiamo fatto 90 o 93 non mi ricordo forse è un altro livello quello back on track dai ma come faccio allora quando non faccio il video è più facile dai cioè non la so pilotare sta sto razzo ho preso la moneta dai non devo morire vai raga devo concentrarmi ma porca di quella puttana troia no raga era arrivato non ci credo raga l'ho finito per la primissima fottutissima volta c'è 14 tentativi in realtà ho tagliato il video 14 tentativi c'è 7-10 minuti quasi per fare il tutorial ho preso ho preso una stella forse non lo so 100% ma andiamo al secondo livello quindi se ho finito questo livello posso farlo quando voglio anche se non faccio il video anche se non faccio il video e dico ho vinto il livello ecco un track e la madonna 93% ma andiamolo subito a fare no mi stavo emozionando ma perché lagga e la madonna e la madonna e la madonna ma che cazzo ma lagga tantissimo Cioè, voi non potete capire quanto cazzo lagga Cioè, andava lentissimo Non è un effetto, raga, veramente Ma io sto video lo volevo chiamare Vinco il livello di geometri dash Dai Dai Cioè, questo Mo' non so quanti tentativi E in più lagga In più Poi qualcos'altro, al contrario Ma perché lagga? Raga, incredibile Non ci stocca più la minchia Porca A caso Bel Non so quando lo finirò sto livello Ma perché cazzo lagghi? Aspetta Raga, il livello lagga Non era co- Ma che cazzo Raga, non era così Senti Ok, raga, non mi lagga più Guardate Aspettate Eh, che cazzo Dai Cioè, non mi lagga più Che ora riesco a vincere? Raga, devo stare zitto Se no perdo Scusate E la musica è E la musica è bella però Come cazzo Prendo la moneta Porca troia Non c'è verso E la musica è bella E la musica è bella E se vi dicessi Che la smettessi? Ma sì, dai Fa pure rima Cos'è sto? Ah, mi ricordo Ah, mi ricordo Cazissimo, raga C'è No, ti immagino Finiscono C'è Quello di prima Non l'ho finito Allora Come cazzo è possibile? Che cazzo è sto schifo? Porca traia Porca traia, raga Che cazzo è fatto? Di male Ok, basta Ok, basta Basta Pubblicità A caso Tra l'altro Sono sudatissimo C'è Mi sono concentrato Spero che il video Mi sia piaciuto Che cazzo è una palla C'è Ci stava una palla Eccoci Eccoci Geometry Dash Spero che il video Vi sia piaciuto Ci vediamo Al prossimo video Ma perché passano Le navi Che cazzo è? Vabbè Ciao Addio